Ryanair e Zeko, il botta e dopo Inter-Napoli è già virale. Singolare coda al successo dell'Inter sul Napoli nel big match della sedicesima giornata di Serie A. Deciso da un gol di Edin Zeko. La nota compagnia aerea Ryanair, con riferimento al gol partita firmato di testa dall'attaccante bosniaco. Ha twittato, buonasera signore e signori, è il comandante Zeko che vi parla. Pronta e simpatica la risposta via social della stessa società nera-azzurra, che esalta il cigno di Sarajevo, benvenuti a bordo della Suan Airlines. L'arrivo in rete è previsto tra pochi secondi. Mettetevi comodi e godetevi il viaggio, al servizio ci pensa Di Marco. Virgola.